Quando abbiamo cominciato con la rubrica ufficio reclami, immaginavamo di aprire un canale di comunicazione diretta con i nostri telespettatori, così da andare incontro a segnalazioni di disservizi altrimenti difficilmente veicolabili. Un canale che in maniera assolutamente naturale si è trasformato soprattutto in uno strumento di denuncia del degrado delle nostre città. Nove volte su dieci le mail che arrivano all'indirizzo tecnici chiocciolatelenuova.tv riguardano scempi di natura ambientale, quasi sempre con riguardo al nodo dei rifiuti. Tra i telespettatori c'è poi chi è particolarmente intraprendente come Gerardo, giovane guardia ambientale italiana di Nocera Superiore che addirittura filma e fotografa lo scempo in cui si imbatte nelle sue quotidiane passeggiati a piedi. Oggi vi mostriamo quanto da lui registrato in località Torretta a Pagani, lungo i tornanti e i sentieri dell'ultimo polmone verde della città sulla collinetta che la domina. Questa è l'ultima discarica prima di scendere giù in paese, una cosa lo stesso spaventoso perché questa addirittura occupa la corsia di destra in salita, la strada si restringe così tanto da poter far passare una sola macchina. Ecco diciamo che non c'è neanche bisogno di commentare, andiamo sempre peggio, qua addirittura ci sono un sacco di detriti, di lavori fatti da ditte sicuramente della zona, perché queste sono zone che poche conoscono. C'è davvero di tutto, le immagini non è un modo di dire parlano da sole, in particolare si nota la gran quantità di scarti di lavorazione edilizia. Non può essere un caso e certamente né l'opera dei singoli privati cittadini, è plausibile piuttosto che siano gli stessi addetti ai lavori di piccole o medie imprese al versare in un'area che andrebbe protetta, invece che nei siti speciali previsti dalla legge. Così lentamente l'ambiente muore. Piccola curiosità, la collinetta in questione, che domina l'ingresso lato nord della città di Pagani, non appartiene alla locale amministrazione comunale. Per effetto di un antico lascito testamentario, infatti, rientra tra i beni immobili dell'ente calabrese di Scigliano, che da anni non se ne cura. Per questo l'ha messa in vendita, ma per due volte la gara bandita è andata deserta. Grazie.